Sono Roxane Barbato, in questo corso per imparare l'ipnosi ho pensato di non riuscire a trovare nient'altro che un metodo e invece sono riuscita a viaggiare, mi ha portato fuori di me, mi ha fatto scalare le mie montagne, ha fatto quello che per noi serve ancora di più per poter trasmettere ai nostri clienti. Quindi ringrazio Miguel Cocco, ha dato un assalto per quello che io cercavo questa giornata. È stato un piacere conoscerlo e sono convinta che faremo altre cose. Grazie.